Signor Sindaco, domenica si rinnova l'appuntamento con la passeggiata enogastronomica, un appuntamento ormai tradizionale? Sì, domenica è un'altra edizione della passeggiata enogastronomica, ormai sono diversi anni che viene presentata questa gita e come tutti gli anni speriamo che ci sia sempre una buona affluenza. Quest'anno la partenza è sempre da Molini di Prelà, sempre per mulatiere, che in pratica vengono collegati attraverso mulatiere tutte le frazioni del comune di Prelà. Molini di Prelà, Valori, a tavole, si conclude a vilatale e poi c'è un percorso alternativo sempre con mulatiere che si scende a Canneto, Prelo, Casacalli in modo da poter riprendere tutte le frazioni che compongono il nostro comune. Come partenza ritrovo alle 10.30 a Molini di Prelà, alle 11.30 più o meno ci sono le partenze e a Molini di Prelà ci sarà un buffet, un aperitivo con prodotti tipici dalle pizzette alle bruschette, tutti prodotti tipici della cucina Ligore. Poi si prosegue per mulatiera e si giunge nella prima frazione Valoria dove gli amici di Valoria preparano un primo piatto, spaghetti e penne al sugo o se no al pesto. Dopo aver mangiato il primo piatto lì a Valoria, sempre per mulatiere, si prosegue per la frazione di tavole dove nel prato della Madonna del Piano viene servito il secondo piatto che è un piatto tipico della cucina Ligore, la capra e fagioli. Ormai sono tanti anni che viene presentata e ha sempre un gran successo. Quest'anno abbiamo fatto un bel po' di più perché sempre il problema è il secondo che non si riesce mai a quantificare le presenze per cui dovendolo cuocere già il giorno prima a volte ci si trovava un po' in affanno. Ma quest'anno speriamo di aver superato questo deficit e avendone comprato di più dovremo accontentare, sicuramente accontenteremo tutti. Da tavole poi si prosegue sempre per la formulatiera a Villa Talla dove a Villa Talla si conclude la passeggiata dal punto di vista gastronomico dove viene servito il dolce, formaggio locale col miele, torte fatte dalle casalinghe, frittelle di mele, tutti i prodotti che vengono fatti lì nel paese di Villa Talla. E lassù ci saranno anche tre intrattenimenti musicali in maniera tale da riempire anche il pomeriggio per i bambini, per le persone che decidono di concludere e di fermarsi un pochettino lì al fresco. Di dopo, una volta conclusa la passeggiata, ci sono due possibilità di ritornare indietro a Molini di Prela, una a piedi per mulattiere. O se no col pulmo abbiamo messo un servizio navetta come tutti gli anni che dalle 4 di pomeriggio, 4 e mezza, porta tutta la gente a Molini di Prela dove ovviamente ne avranno lasciato le auto alla mattina. Io questa manifestazione è, secondo me, la più importante che viene organizzata nel nostro comune, forse anche in tutta la Valprino e viene realizzata soprattutto grazie al contributo e l'aiuto che ci viene dato dai volontari, dai volontari delle Proloco e delle associazioni che sono un pochettino il valore aggiunto, diciamo, dell'amministrazione. Quest'anno, oltre alle Proloco e alle associazioni, si è aggiunta la squadra dei cinghialisti che ha pulito le mulattiere perché abbiamo sopperito una carenza economica che sicuramente ci avrebbe messo anche in difficoltà per pulire poi tutte quante queste mulattiere. E appunto, se non ci fossero stati i volontari, sicuramente dovremmo fare un enorme sacrificio per fare questa manifestazione per cui li ringrazio a nome mio e a nome dell'amministrazione. È un grosso contributo, ce lo sta dando anche Federica, col suo mercatino che riempie praticamente poi tutta la giornata di domenica lì a Molini di Prelà e poi vi spiegherà lei meglio come verrà organizzato. Il comune di Prelà poi sarà presente con tutte le sue associazioni l'11 e il 10 giugno a Dolcedo dove verrà organizzato l'Expo, secondo Expo della Valprino con i propri prodotti e con le proprie associazioni presente sul territorio. Quindi spazio anche al mercatino in questa giornata così speciale? Sì, noi saremo alla base col mercatino e avremo prodotti locali, avremo anche prodotti regionali, poi artigianato, vintage e quant'altro. Daremo anche la possibilità ai bimbi che lo desiderano di esporre le proprie cose, i propri giocattoli nel prato antistante la chiesa dove potranno scambiare i propri giochi e quindi diventerà un parco giochi anche questo prato. E il mercatino sarà da contorno a tutta questa manifestazione perché quando le persone arriveranno, famiglie intere, amici, gruppi di amici, troveranno questo decoro ad accoglierli e mentre magari uno di loro prenderà i biglietti, gli altri potranno girare per i banchetti e vedere un po' quello che esponiamo e non solo, anche all'arrivo, quelli che sono stati un po' più pigri, che hanno deciso di scendere in pullman verso le 5 aspetteranno i loro amici in questo decoro e quindi sarà veramente una bella manifestazione anche per noi perché saremo tutto il giorno là. Avete già altre date poi? Sì, allora la prossima data di Prela sarà il Prela Jamfest il 14, 15 e 16 luglio in cui prevediamo musica dal vivo per tre giorni e poi saremo presenti proprio per presentare questa manifestazione all'Expo della Valprino a Dolcedo il 10 e l'11 di giugno e saremo con uno stand, lo stand dell'Art and Sport Club Pietralata e ci tengo a sottolinearlo, siamo noi della Pietralata che organizziamo sia il mercatino sia queste attività. Domenica vi aspettiamo al mercatino a Molini di Prela con la passeggiata enogastronomica e poi vi aspettiamo il 10-11 giugno a Dolcedo per l'Expo della Valprino.